Qual è la roba interessante del fatto che abbiano vinto i Money Skin Money Skin All'Eurovision Song Contest L'Eurovision Song Contest è una barracconata mai vista la roba più kitsch del mondo Però questa gli ha dato una visibilità pazzesca Sanremo E adesso Eurovision I Money Skin sono i nostri Greta Van Fleet Coppa la veccia Per cui niente di nuovo, niente di originale I Greta Van Fleet si rifanno e le Zeppelins spudoratamente Loro mischiano un po' di robe Questa canzone qua sembrano i Friends Ferdinand Ok, niente di trascendentale I Money Skin vengono fuori da un talent Cioè siamo nel mainstream più mainstream Però cosa c'è di interessante di questo mainstream? Che se voi guardate la classifica top 50 del mondo ma anche italiana Non c'è una band Non c'è della musica rock Dici, eh, ma se i riferimenti dei giovani alla musica rock sono questi Siamo messi male Ah ma eravamo messi male anche prima, eh? Anzi peggio Però dico io Meglio un riff di chitarra Che magari uno gli viene voglia di prendere una chitarra nuova Piuttosto che un controller MIDI E usare Ableton Questo soprattutto perché le due dimensioni sono completamente diverse In una sei tu da solo a farti le seghe davanti al computer Col tuo A cercarti fuori il kick In un altro vai a fare schifo in sala prove Come diceva Dave Grohl Ti compra il tuo strumento Vai in sala prove Fai cagare al cazzo Non andate a tempo Il batterista suona sempre forte Il basso Ce l'hai troppo vicino L'amplificatore non lo senti quando suoni Però il vicino di casa c'ha la vetrina che trema La cantante O il cantante Urla Fine serata Non so più la voce Le birre sono sempre calde Quelle dell'Eurospin Che fa schifo anche fresche Calde Non ci sono mai soldi giusti Poi bisogna andare a prenotare la sala prove E' occupata Quelli di fianco fanno metal E non si sente niente Sei a casa di un amico Sopra c'è la nonna che dorme E le dieci devi smettere Ci fanno due palle così La sala prove è brutta Fa sempre schifo Sempre sporca E con i cartoni delle uova Che non servono a niente Sono anche brutti da vedere Puzza Dentro c'è puzza La sala prove è una grandissima scuola di vita Come fare il cameriere a 18 anni Lavorare in fabbrica Poi è ovvio che ti guardi attorno E dici Minca ma tutta la vita qua dentro No dai Cerchiamo di fare qualcosa di bene Qualcosa di meglio Se invece sei a casa tua Con la tua tastierina Il tuo computerino Lì che fai le tue robe E vedi il te caldo Dici ma si Qua ci posso stare anche fino a 50-60 anni Per cui come ha detto anche Manuel Agnelli La cosa interessante è questa È che sono una band Pensano da band Sono uniti Sono amici Fanno un percorso assieme Sentite che cosa dice Big Fish per esempio Quando parla del lavoro con i rapper I rapper vogliono la base pronta Lui dice Io vorrei lavorare con i musicisti Con i rapper Io vorrei che loro venissero qua E facessimo la base assieme Creassimo la canzone assieme Loro non la vogliono Loro vogliono una base pronta Anna Bando Golbooster Ha scaricato la base da YouTube C'è qualcosa di più solitario di questo Di più Karaochizzato Di più finto No Bisogna andare in sala prove E fare schifo Schifo Grazie a tutti